Ohi Lu, ma come mai siamo qua? Hai visto le storie dei Ferragnezz su Instagram? Sì, le ho viste, ma perché? Dobbiamo fare anche noi la nostra parte. Ci stai? Beh... La prima regola è lavarsi spesso le mani. Con acqua e sapone strofiniamole per 40-60 secondi, mentre con il gel a base alcolica per circa 20 o 30. Manteniamo la distanza interpersonale di almeno un metro ed evitiamo di utilizzare bicchieri e bottiglie che sono già stati utilizzati da qualcun altro, perché potrebbero passarci il virus e altre cose non piacevoli. Manteniamo sempre il distanziamento sociale e indossiamo sempre la mascherina. Se dobbiamo starnutire o tossire, facciamolo nella piega del gomito o in un fazzoletto monouso. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani, perché queste, le mani, potrebbero essere venute a contatto con qualcosa di contaminato col virus. Quindi è bene non toccarsi occhi, naso e bocca. O nasi, bocca in base a quante navette. Bene, per riassumere, manteniamo sempre un certo distanziamento sociale adeguato alla situazione, teniamo sempre indossata la mascherina e laviamoci bene e spesso le mani. Solo in questo modo riusciremo il prima possibile, e realmente, a tornare ad abbracciarci. Rispetta le regole. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici.